Ho una risposta per te Ascoltami attentamente Io sarò pure un minion di Dario e l'avrò accertato E sono felice di questa Mia strada, di questo mio percorso Tu invece sei triste, la tua vita è triste E per sfocare la tua frustrazione devi venire nelle chat della gente a rompere il cazzo con queste frecce Mi dispiace